E' Salerno la provincia campana dove si scommette di più pro capite e quanto emerso al No Gambling Day, la giornata che la regione Campania dedica alla sensibilizzazione e alla consapevolezza sui rischi e i danni del gioco d'azzardo e in cui sono stati illustrati i dati allarmanti. Ogni salernitano infatti gioca in media ben 2633 euro all'anno più dei cittadini di Napoli e Caserta ma questo non è l'unico triste primato. L'ASL di Salerno ha infatti il maggior numero di pazienti in cura per ludopatia, cresciuti da 710 a 1094 dal 2019 al 2023. Sono dati che sottolineano una situazione preoccupante sia dal punto di vista sociale che sanitario e che riguardano tanto il gioco fisico quanto quello online. Dai numeri illustrati dalla DGA, l'osservatorio regionale del disturbo del gioco d'azzardo è emerso che tra i giochi preferiti dai campani ci sono slot, newslot e videolotteri seguiti dal lotto e da lotterie e giochi a base sportiva oltre alle scommesse virtuali e quelle a base ipica. Per quanto riguarda invece le fasce d'età il fenomeno sta diventando preoccupante tra i giovani e giovanissimi soprattutto tra i minori che spesso giocano online fingendosi maggiorenni. Tra gli intervenuti a No Gambling Day il governatore della regione campagna Vincenzo De Luca, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto e il presidente del DGA Aniello Baselice che hanno lanciato un grido d'allarme affinché ci sia più controllo da parte di famiglie e istituzioni pubbliche e che anche i gestori delle sale gioco facciano la loro parte per contenere il fenomeno.